bella raga qua è Savix che vi parla con l'aggiornamento settimanale ragazzi veicolo del podio la club ragazzi questo veicolo secondo me è inutile ma per i collezionisti potrebbe essere interessante se volete vincere ragazzi questo veicolo sul canale trovate glitch da ruota della fortuna e in modo da poter vincere sempre la macchina o sempre ciò che volete nella ruota quindi a questo punto io andrei all'esterno del casino per farvi vedere ragazzi il nuovo veicolo parliamo della nuova hotring ragazzi sono un pochettino titubante su sta macchina perché da originale veramente non si può guidare ma l'ho modificata e vi porterò ragazzi la reaction a questo veicolo che comunque lo trovate su sul sito san andreas ragazzi il prezzo di circa 1.800.000 se fate regà le gare dedicate di questa auto che ci sono anche quelle nuove se non sbaglio semplicemente lo pagherete un milione e 4 sono tre gare raga le fate insieme vi mettete in un gruppetto a turno vincete più volte a testa e tali che avete sbloccato il prezzo voglio anche ricordare con quest'auto potete passare le livree quindi a questo punto ragazzi vi voglio informare del format nuovo che sta uscendo settimanalmente ragazzi ogni settimana mi vado a imbriccare in tutti i buchi possibili immaginabili abbiamo preso raga contatti con delle persone quindi dalla settimana prossima potremmo fare esplorazioni assurde vi invito a sostenere questa nuova serie quindi a questo punto raga una volta che siamo arrivati qua entriamo dentro ls auto raduno come veicolo del podio che ogni volta per vincere questo veicolo dovete arrivare tra i primi ragazzi nella categoria clandestine è un 4x4 ora non mi ricordo bene come si chiama ma penso che non freghi a nessuno poi abbiamo la cyclone 2 raga come al solito ce l'avranno messa 600 volte sta macchina qua e poi stiamo attenti qua raga una cosa nuova che non ho mai visto hanno messo tutte le f1 in esposizione la br8 è scontata ragazzi vi consiglio di comprarla perché è quella che va più forte che non si sa mai che molto probabilmente ci metteranno le gare con gli eripi doppi la settimana prossima quindi a questo punto vi faccio vedere che ci stanno le gare della hot ring guardate quante sono ragazzi con gli eripi doppi io vi invito a farle sono divertenti vi fanno fare tanti eripi raga veramente tanti quindi decidete voi a questo punto io passerei alle auto officine raga che sono scontate ed è uno dei business a parer mio insieme all'agenzia uno dei migliori perché ci permette di fare dei soldi da soli quello è la cosa importante raga è importante quello i colpi ci danno 300.000 a colpo sono carini sono 200.000 possiamo fare anche i borso in equità abbiamo il business del car to service è veramente veramente utile quindi se non ce l'avete ve lo dovete comprare raga infine ragazzi cosa facciamo andiamo a trovare simeon infatti per l'appunto cosa oddio fa un culo raga lo lascio anche nel video non c'ho voglia di rifarlo a sto punto troviamo le due hot ring vi voglio ricordare che con tutte e due possiamo fare le livree moddate sui veicoli perché ogni livree apporta qualcosa sopra la 16 mi pare e poi troviamo questi 4x4 ragazzi quindi a questo punto lasciate un like lasciate un commento su portatexavix iscrivetevi e niente raga alla prossima sbada bam ciao